Ancora un terribile incidente nelle ore del sabato sera, poco prima della mezzanotte a Borgo San Giacomo, lungo la provinciale 64. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti, con un bilancio gravissimo. Cinque persone coinvolte, quattro delle quali rimaste ferite, due in modo molto grave. L'incidente si è innescato con un sorpasso finito male di una Renault Clio, con a bordo quattro ragazzi, due maschi e due femmine di 18 e 23 anni. La vettura si è ribaltata, uscendo dalla sede stradale e precipitando in un campo attigua alla provinciale, non prima di aver superato l'intera scarpata, che si stende a fianco della lingua d'asfalto. I due ragazzi seduti sui sedili anteriori sono stati sbalzati fuori dal veicolo e ritrovati a 100 metri di distanza l'uno dall'altro in gravissime condizioni. Incastrate nell'abitacolo della vettura, ma fortunatamente coscienti, le due ragazze. Grazie Grazie Grazie